C'è rossa? Dopo dovrò cavare l'indima, potrei andarmi, mi faccio per sicuro dalle ore. Si è un po' mollata, perché mi balla rispetto agli altri giorni. Fa miglia. Non si lavare, non si lavare. Non sono assombrat. grazie 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 wow un po' alla volta dai mi sono dimenticato di vedi che è piena forno quando ero qui in fondo vediamo qua la faccia anche sul comodo che bello ah non ce la faccio ecco 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 ci stai qua dentro la telecamera maniacale funzionava almeno il rosso ecco 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 ecco